buonasera amici ascoltatori benvenuti al moon talk rubrica jurassic parma la rubrica che parla delle vicissitudini del parma calcio 1913 e che è condotta da andrea che vedete in questa parte dello schermo mentre dall'altro lato abbiamo in fase regia francesco che saluto caramente ciao francesco tutto a posto ok non si accende neanche il microfono ormai comunica solo così è una entità mala detto questo andiamo subito a spiegare quello che è il titolo della puntata di oggi ovvero lacrime di coccodrillo anzi lacrime di parmandrillo ecco è un titolo che lascia un po perplesso francesco che è un po incuriosito da questa cosa però in realtà questo titolo l'abbiamo voluto dare per fotografare un po il momento attuale del parma ovvero un momento in cui cavolo anche dopo la partita contro il padova sembra che proprio sia un peccato dover dire addio alla vittoria di questo campionato vedendo questa squadra vedendo il tasso tecnico di questa squadra infatti lacrime di parmandrillo però il parma è anche un po mandrillo perché insomma se ne è andata un po a cercare perché avendo impostato la stagione in un certo modo e avendola continuata in un modo diverso poi alla fine non è facile ritrovare il bandolo della matassa se soprattutto si è persa all'inizio il parma che abbiamo visto in campo è un parma che un parola rispecchia quello che è stato anche durante tutto il campionato ovvero un parma che tecnicamente è più forte degli avversari ma di testa comunque non è sicuramente la squadra più forte in questo campionato perché voi lo sapete ormai il campionato si vince con un altissimo tasso tecnico ma comunque con una altissima anche percentuale di testa messa in campo con l'atteggiamento mentale che si mette in campo quindi questo atteggiamento durante tutto il campionato è stato un po il nante non c'è mai stato in maniera continua e quindi anche giusto accontentarsi ma comunque accettare questa seconda posizione che in realtà ci rispecchia pienamente perché il venezia di testa è stata nettamente più forte e la consolazione di essere attualmente a secondo posto e dover saltare un turno di playoff è veramente magra perché comunque sappiamo che un turno di playoff in più o in meno alla fine cambierebbe poco perché quando bisogna vincere una serie di partite che sono delle corrette russa alla fine farne uno in più uno in meno vabbè soprattutto anche perché il primo turno vedrebbe le prime contro le ultime della classifica dei playoff e quindi sarebbe un po tra i turni più facili il perma che abbiamo visto quindi deve soprattutto lavorare su un aspetto di testa e un aspetto di mentalità di approccio alle partite perché abbiamo visto tantissime volte anche nella partita contro il padova nelle partite scorse un atteggiamento tecnicamente superiore ma poi un perdersi in gloria un quasi un snobare l'avversario un essere quasi troppo sicuri dei propri mezzi e abbandonarsi a se stessi ecco questo causa disattenzioni questo causa gol questo causa problemi che poi è difficile recuperare stagioni in corso un parma che contro il padova dobbiamo dire ci è piaciuto tantissimo però insomma deve migliorare soprattutto sotto l'aspetto della concentrazione nei 90 minuti e questo è importantissimo anche in chiave playoff perché tu per esempio puoi fare una partita perfetta ma poi gli ultimi due minuti se cominci a cedere come è stato poi nella partita contro il padova la squadra la serie ti può segnare ti può mettere in serie difficoltà perché magari sulla spinta l'entusiasmo può trovare energie che tu poi non hai più essendo passati i 90 minuti sarà fondamentale lavorare tantissimo di testa in questo ultimo periodo in queste ultime partite di questo campionato per poter raggiungere l'obiettivo ultimo che non è neanche il playoff non è neanche la vittoria della lega pro non è neanche all'arrivare in serie b ma l'obiettivo ultimo del parma deve essere arrivare in serie a e deve essere una mentalità che deve essere recuperata il più presto possibile perché avere una mentalità da squadra vincente ti porta lontano se invece risolviamo i problemi solo contingenti alle partite una dopo l'altra non si va veramente lontano quindi andiamo avanti e andiamo a vedere quelli che sono stati i top e flop di questa partita contro il padova e i top e flop ovviamente di flop nessuno perché la prestazione generale della squadra mi è piaciuta tantissimo ovviamente lacrime di cocodrillo perché peccato che si arrivi a una prestazione tecnica così di livello adesso senza potersi poterla magari rendere utile in una maniera più incisiva però comunque tra i migliori in campo abbiamo sicuramente isbarai che ha fatto una partita io l'ho definito il cassano della lega però in questo momento isbarai perché tantissima classe tantissima corsa ecco cosa che cassano magari non sempre aveva nella sua carriera però comunque è un giocatore di tanta classe tantissima intensità un punto di riferimento per i compagni in attacco il giocatore che ti vuole spezzare la partita in ogni momento non solo quando si accende ma comunque durante tutti i 90 minuti tu sai che in un certo punto barai oltre a darti una continuità di prestazione ti può anche dare quel in più che ti può fare portare a casa la partita è un giocatore che sembra abbia inquadrato il suo obiettivo che è quello di giocare nel massimo campionato e sembra anche aver capito come raggiungerlo ovvero dando il massimo minuto dopo minuto di ogni partita secondo top che abbiamo deciso di premiare pierluigi frattali un portiere che devo dire mancava tra i pali e senziosamente si è scoperto che una presenza molto importante perché tornato lui sono venute a mancare quelle disattenzioni difensive che hanno caratterizzato il parma durante la sua assenza ovvero quelle retropassaggi azzardati quelle dimenticanze dell'avversario quei passaggi un po troppo come si può dire anche anche azzardati ma non proprio azzardati quelli snob ecco quell'altro passaggio un po snob da dire tanto io sono più forte faccio questo mezzo dribbling e poi passo la palla poi però se la perdi in quella posizione non è sicuramente l'ideale e frattali ha saputo dare quella sicurezza che il riparto offensivo il riparto difensivo aveva bisogno e bravissimo devo dire un partiere bravissimo nell'uscite e un po meno bravo nel rinvio coi piedi però comunque vabbè noi abbiamo giocato per una vita in seriaco mirante che un rinvio non l'ha giaccato in tutti i suoi anni di permanenza al parma quindi se questo portiere lega però non sa fare bene il rinvio fa lo stesso l'importante che sia bravo in tutto il resto un altro top che abbiamo deciso di premiare in una partita che avrebbe meritato veramente tantissime persone sul podio è simone jacoponi simone jacoponi che insieme a scaglia è stata la vera sorpresa di questo parma per una varie ovvero una ritrovata capacità di sfruttare le fasce con interpreti degni infatti sia scaglia che jacoponi stanno dando una continuità delle sicurezze che non si erano mai trovate sia in fase propositiva che soprattutto in caso per quello che riguarda jacoponi in fase contenitiva ecco devo dire che mi è piaciuto veramente tanto come anche mi è piaciuto questa questo modulo 433 che comincia a essere una sicurezza di questa squadra e questo insieme a una ritrovata sicurezza nell'interpreti quindi un ritorno nei ruoli titolari sia finalmente ed è un peccato dirlo solo ad aprile la formazione titolare comunque adesso si riesce a capire una vera identità di gioco un vero senso di squadra detto questo andiamo invece a parlare di quella che sarà la partita di domenica prossima ore 16 30 al tardini contro l'Ancona calcio Ancona calcio che devo dire sta latitando nell'ultima posizione della classifica anzi nell'ultima posizione della classifica a 24 punti ha appena perso 1 a 0 contro il terramo una partita da cui cosa ci aspettiamo ci aspettiamo sicuramente i tre punti ma ancora di più ci aspettiamo un continuo in questo lavoro che il parma sta facendo partita dopo partita in questi miglioramenti progressivi che sta facendo partita dopo partita quindi ci aspettiamo che si continui a lavorare su quella che è la formazione titolare in modo da poter sviluppare al massimo l'intesa tra i principali artefici di questo gioco e poi magari una volta magari che si stabilizzi la partita un progressivo rientro in campo di giocatori che hanno trovato meno spazio in questo campionato per tentare di dare minutaggio anche loro di farli entrare in clima partita perché se dobbiamo arrivare ai playoff ovviamente è meglio arrivarci tutti con l'obiettivo ben saldo e tutti in forma quindi prima di tutto sviluppare l'intesa tra l'undici titolare e poi soprattutto ancora di più far entrare nella testa dei giocatori che sono in panchina il concetto di io valgo come dice una certa pubblicità di cosmetici detto questo sarà vietato comunque avere dei cari di tensione e snobare l'avversario perché questo è quello su cui dobbiamo lavorare io ho finito sono Andrea vi do appuntamento al mercoledì prossimo con una nuova puntata del Montol che vi chiedo scusa per il ritardo di una giornata ma del resto perché non rinunciare all'opportunità di commentare anche la partita contro il Padova che era un po' l'ultimo match dopo il derby della Reggiana che sarà l'ultima partita di campionato detto questo vi auguro una buona partita domenica del Parma e ci troveremo sempre qui mercoledì prossimo per parlare insieme passate una buona settimana e ciao a tutti dal Montolca ciao